E' uno cerignolano di 37 anni, uno degli autori della rapina messa a segno ad una banca a Ruvo di Puglia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapini in concorso. Il 18 maggio scorso, secondo quanto è emerso dalle indagini, due persone, una a volto scoperto e armata di taglierino e una con il volto coperto, sono entrate nell'istituto di credito minacciando il cassiere e facendosi consegnare 12.000 euro in contanti. I carabinieri di Trania hanno avviato le indagini concentrandosi soprattutto sul giovane che ha agito a volto scoperto, presupponendo che si trattasse proprio di personaggi di fuori provincia. Per questo le indagini sono state stese a tutta la regione. Grazie anche agli esami dei filmati, ai racconti dei testimoni e alle rilevazioni tecniche, i carabinieri sono usciti a individuare il 37enne di Cerignola come uno degli autori della rapina. L'ordinanza di custodia cautelare gli è stata notificata nell'abitazione, dove si trovava perché era agli arresti domiciliari per un altro reato. Ancora in corso le indagini per risalire al complice del Cerignolano.